Il sottopasso su via Damiano Chiesa è stato chiuso per rottura a trave il 23-6 del 2012. Gli svincoli in entrata e uscita sono forzature al traffico. Bisogna parlare con l'ANAS. Il trave rotto e collassato, a parere di esperti, è stato solo stuccato e berniciato. Scala a chiocciola senza pavimentazione, con rimano e luci. Il marciapiede non permette il transito per carrozzini dei disabili, è mancante di corrimano. Mancanza di grate tipo autostrada A14 sulla sede stratale, un bambino per curiosità può cadere nel vuoto. Lato ferrovia c'è la mancanza di una rete di protezione. L'uscita dalla scala a chiocciola è uno scandalo. Malgrado il divieto di affizione, le stesse continuano ad essere selvaggi in ogni punto. Eppure qualcuno promise delle bacheche per rendere un aspetto più pulito. Acqua e vegetazione. Io vorrei chiamare il prefetto, i vigili del fuoco che sono già intervenuti, a verificare questa situazione. Non si può andare più avanti. Non è un'immagine di una città futura che sta nascendo. Ed ora quindi chi è il comune responsabile? La responsabilità fino il 31-12 dicembre è appannaggio del comune di Fano. Loro cortesemente non hanno mai fatto nulla e sicuramente non faranno. Ma il loro senso civico, e lo ripeto, dove è? I voti qua li hanno presi a suo tempo.